eccoci un'altra volta verso il monte artemisio direzione acqua donzella guardate quanti siamo oggi oggi tanti incredibili 1 2 ecco per fortuna c'è anche il coach questa rifammo e che dire ragazzi l'uscita di oggi non è iniziata proprio verso giusto infatti come avete appena visto il buon daniele nonché il nostro coach per far divertire le folle ha esagerato con l'intento di imitare 100 per cento brunotti ha impennato ma è caduto sbucciandosi braccia e riportando una bella botta alla gamba sinistra ma come diciamo sempre la mtb è anche questo e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.